Ecco, dobbiamo pensare che ognuna delle misure che adottiamo per cercare di non contagiarci assomiglia a un ostacolo che mettiamo fra noi e il virus. Un ostacolo è la mascherina che quindi blocca il passaggio di molti virus. Altri virus sono bloccati dal distanziamento, altri ancora dal lavarci le mani. Quindi se adottiamo tutte le misure riduciamo veramente al minimo il numero di agenti infettivi che possono raggiungerci, anche perché è vero che la grande parte dei contagi avviene in famiglia, ma in famiglia qualcuno il virus ce lo deve portare, non è che nasce lì. Ed è per questo che dobbiamo fare veramente di tutto per minimizzare le nostre probabilità di contagiarci quando siamo fuori. Grazie dottoressa.